L'edizione 2023 di Campion Island è partita in quarta e le coppie coinvolte si trovano già in uno stato di caos totale. Una delle prime coppie ad attirare l'attenzione dei telespettatori è quella formata da Gabriela e Giuseppe. Ricordiamo che è stata Gabriela a prendere l'iniziativa di partecipare al famoso show dopo aver scoperto che il suo fidanzato si era iscritto a un sito di incontri. Adesso? Entrambi si trovano al centro di una sfida che si preannuncia incandescente. Appena arrivata all'Ismore's Relay, Gabriela si è subito trovata di fronte a una sfida che coinvolge il suo fidanzato Giuseppe. Le è stato mostrato un video in cui il 24enne si intratteneva in una conversazione con la single Roberta. Ma non è tutto, le parole pronunciate da Giuseppe nel video hanno scatenato l'ira di Gabriela. È difficile per me essere qui. Se scherzo con le altre? È finita, ha dichiarato Giuseppe. E ancora, da sette anni non riesco a capire cosa voglio dalla vita. A volte la mia mente mi dice stai con lei, altre volte mi dice no, esci il sabato e vai a ballare. Parole che hanno immediatamente scatenato la rabbia di Gabriela. Dopo aver visionato i video che coinvolgono Giuseppe, la reazione di Gabriela è stata tutt'altro che tranquilla. La ragazza ha iniziato ad urlare e a pronunciare parole offensive. Sono state dette parole molto pesanti. Da oggi sono single. Da oggi non mi interessa più nulla. Insomma, la protagonista di Campation Island ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua furia senza precedenti. Adesso sono stanca. Mi sono tolta le bende dagli occhi, ha continuato Gabriela sfogandosi con le altre ragazze avventuriere. È stato un inizio esplosivo per la coppia formata da Gabriela e Giuseppe, e promette già scintille. Grazie. 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 Grazie.